Tiago Motta stava nella lista dei nostri eventuali allenatori da Napoli, però Tiago Motta già in una conversazione avuta di parecchie ore, circa sei ore, a Roma l'anno scorso, mi disse che lui puntava ad allenare delle squadre di cui non faccio il nome fuori dall'Italia, ecco l'hai detto te. Allora il problema che vuol dire? Non vuol dire nulla, io l'ho già detto quando tu vai a fare una scelta di un allenatore, questa scelta è una scelta bilaterale, quando è venuto da me l'avvocato e l'agente di Enrique a Roma, siamo stati tre giorni a parlare, poi lui ha preferito il Paris Saint Germain, perché ci sono dei club che essendo più blasonati del Napoli hanno una maggiore attrazione.